Stroncato un maxigiro di spaccio di sostanze dopanti e anabolizzanti all'interno di alcune palestre in Valdichiana. Si è conclusa con due arresti e cinque denunce la lunga e complessa indagine dei carabinieri, oltre al sequestro di numerose sostanze vietate, impiegate in ambito sportivo per migliorare le prestazioni degli atleti. Le indagini della Compagnia dei Carabinieri di Cortone del Nucleo Antisofisticazione di Firenze si sono sviluppate dal dicembre 2015 ad aprile del 2016. Gli accertamenti si sono concentrati in un primo momento all'interno di una palestra della Valdichiana, in particolar modo su un istruttore della Valdichiana, sospettato di reperire e rivendere le sostanze dopanti ai frequentatori della struttura. I carabinieri hanno così interrogato un 38enne di Cortone iscritto alla palestra al centro delle indagini. L'uomo ha ammesso di procurare le sostanze sia a numerosi giovani della zona che ad alcuni istruttori, che poi a loro volta le rivendevano ad altri utenti. Il giro di spaccio si era così man mano allargato anche ad altre strutture della zona. Nel corso delle indagini sono poi emerse alcune ramificazioni anche in paesi esteri, Balcani, Russia e Cina, dove venivano acquistate le sostanze dopanti da un soggetto poi arrestato dai militari. Il traffico di doping si basava su un meccanismo ben collaudato. Chi reperiva le sostanze sul territorio poi riusciva anche a confezionare le singole capsule, all'interno delle quali inseriva i principi attivi delle sostanze dopanti, senza tener conto dei danni alla salute che potevano causare. Al termine della prima fase delle indagini è stata arrestata anche un 26enne di Sinalunga e denunciata altre 5 persone per reati di detenzione e fini di spaccio di sostanze dopanti e anabolizzanti. Sequestrate centinaia di sostanze anabolizzanti e dopanti, tutte legalmente acquistate e rivendute, rinvenute dopo le perquisizioni.